SONO 13 ANNI CHE STIAMO INSIEME LA COMUNIONE, LA CRESIMA, NISO CLIENTE! Ma vi siete fatti due conti? 850 euro mensili 6.000 euro 20.000 euro Dobbiamo togliere qualcosa E che vuoi togliere? Il matrimonio 100 euro, neanche i soldi delle manci dei cani Che quant'è? 200 euro Sei di loro 200 euro Noi non è che siamo proprio in viaggio di nozze Siamo la voce dell'Uno, Germania Dove è stato cucina? 5 minuti arriva Tu sei la sposina E' l'ottico che posso mai essere Che siamo qua da 5-6 ore Aspetta anche come dovevo avere sfortunato Faccio te! Complimenti per la scelta E' un bisou Non ti preoccupare Non ti preoccupare Di pagare i debiti che abbiamo a Napoli E ce ne torniamo Ho fatto il testo Feconda E' prima che è arrivata Solo tu le vuoi dire queste cose Monica è feconda E chi è prima? Ui! Ui! Non sono solo io Siamo due i cretini Io a Napoli ci voglio tornare In prima classe Lui è il nostro amico Il Tunisino La birra Non lo so se c'hanno una birra La birra Angor Ma che camminiamo con le birri nella casa? La birra è un uomo Vai giù Ma t'ha posto Ma Tunisino l'ha da forcella Ma perché? La birra è un uomo È il Kenro Il ha nu